Quando sembrava tutto perduto, i nostri eroi trovarono dieci umanità e tutto questo gli diede una grande Manus. Bella a tutti ragazzi, sono Spopogamer, oggi siamo tornati con Dark Souls Remaster ed in nostra compagnia c'è lo scintillante Virgilio, nonché Giva. Sono Super Saiyan, adesso diventiamo Super Saiyan God, comunque dobbiamo andare, ero in perfetta sincro tra le altre cose, dobbiamo andare verso Manus, infatti tu oggi per ucciderlo mi darai una Manus. No, ecco. E io non so nemmeno cosa sia a questo posto, gli altri pericolari li avevo visticchiati, questo qua zebra proprio. Seguimi, seguimi a ruota. Correndo o andando piano? Rotola, a ruota, rotolare per forza. C'è un simbolo. Allora, dove? Qua. Tocca il segno del servitore. Non toccarlo. Non l'hai toccato, lo so. No, non l'ho toccato. Tocca il segno... Ah, no, questo qua è cattivo. E' roba... Eh, quanta roba brutta, scappa. No, uccidi che scappa. No, ma ci sei... Iii, la miseria. Vai subito dal... Vado io dal castatore. Mi ha quasi ucciso, mi ha quasi ucciso. Tra l'altro io ho 9 fiaschette perché sono pirla, 8. Non si vede una sega, tra le altre cose. No, ho sbagliato! Ti ho salvato io. Ho sbagliato. Ho trovato anche un luttino. Perla oscura. Hai usato l'unica resina che avevo, perfetto. Andiamo. Bene. Guardo io se ce ne ho poi al massimo... Oh, una... C'è una lucina qua. Sì. Ok. Devo riabituare alla lentitudine di quest'arma. Eh, la lentitudine dell'arma è una brutta cosa. Anche perché sto iniziando... Allora... Quante... Quante umanità ci sono di sotto? Tutte quelle che servono a te. Eh, che non le ho. Non ho più umanità, ragazzi. Ma possiamo prenderle? No. Cioè, non ci danno umanità. Non droppano umanità? Bravissimamente sì. Allora, non fatti toccare dall'umanità perché ti... Ti sbrindellano di male. Allora fatti curare. Sì. No, no, il calcino all'umanità. No, il calcino. Perché non droppano le puttane? Devi essere alquanto aggressivo. Fanno così tanto male l'umanità? Sì, se ti passano attraverso ti fanno un male bestia. Ok. Se vuoi provare a vedere cosa succede quando ti passano attraverso. Occio che c'è uno che casta. Perché casto? Aiuto. Succa. Bravissimo che mi proteggi. Sì, fotonico. Io vado a prendere il droppino. Non puoi uccidere. Sì, se non viene giù no. Non è un archetto. Perché c'è della cosa brutta lì? Allora, aspetta, vieni con me. Sì, sì, anche perché sta succedendo così. C'era della fulmina viola. E la fulmina viola l'ha fatta quella che... ...el tipo che casta. Allora, di qua non possiamo andare. Eh no, dobbiamo fare il giro. Ho fatto il giro. No, ho fatto io. Aghia la puttana, il giro più corto. Dov'è che stai andando? Ah, ma tu seguimi. Seguimi. Mi ha preso, mi ha preso, mi ha preso, mi ha preso. Se mi prendo un'altra volta muoio, se mi prendo un'altra volta muoio. Allora, io non ho più umanità. Qua sotto c'è un lutto. E umanità fiaschette. Ma come? Umanità gemelle. Rai dieci fiasche. E adesso sono quattro. A parte che abbiamo iniziato il video che ne avevo nove. Perché a fare il coglione ne ho usata una per sbaglio. Allora, tanto non credo di... Ce la faremo subito. Dici? Sì. Perché ho sbagliato e non ho fatto l'altra strada per andare a... A sbloccare Sif. E cazzarola. L'astra titanite bianca. Buono. Non so cosa serve, ma buono. È per potenziare al massimo un'arma... Che va potenziata con le titanite bianche. Eh. Allora, proviamo senza Sif che è meglio. Senza Sif, ma è... No, un'altra umanità. Fammela prendere. Yeah. Ho già raccimolato un'umanità gemella più due umanità. Sono due volte in più che possiamo giocare. Assieme. Ci siamo? Eh, ho tre fiasche, ma sì. Allora, tu distrailo e schiva. Ma Sif? Ah no, non c'è. Eh no. Eh, io non l'ho mai visto sto boss, eh sappilo. Non so nemmeno con che faccia. Sì, sì. Guarda la cazzina. Oh, cazzina. La sto guardando la cazzina. La cazzina. Manus. Ecco perché si chiama Manus. Ora l'ho capito. L'hai capisciuto perché si chiama Manus? Yep. Mi raccomando, fammi almeno entrare nella boss arena. Non farti sciuttare così. Devo schivare? Oh, la madonna. È una cosa bruttissima. Dove mi consigli di scappare? No, da nessuna parte. Schiva perché se scappi correndo ti becca sempre. Tipo adesso? Schiva, scusa il sato, forever. Sì, ce l'ho fatta. Ma non prendatela con me. Perché no? Guarda lui. La coda. Perché tu... Tu intanto che gli fai cose io lo stupro, no? Ma come ha fatto a prendermi da laggiù? Allora... Questo qua è uno dei boss che dopo la metà cambia... Forma. Cambia... No, no, forma. Cambia tipi di attacco. E tanto io non so nemmeno quelli della prima metà. Fa niente. Tu sappi che devi schivare a bestia. Soprattutto dalla metà in poi perché... Comincerà con la magia nera. Mettiti il coso. Tieniti pronto il... Il pendente. No, ma penso con la combo della merda. Ok, io forse, forse, forse. Ma lo devi tenere occupato, mi devo curare. Per la madonna. No, 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 la combo di merda. Curati. Ultima fiasca. Ok. Vabbè, non è che gli facciamo tanto. Occhio! Donna, curati subito. E io non posso curarmi. No, dicevo io. Occhio che torna all'indentro. Vai, vai. Gli ho dato io l'ultimo colpo. Sono coraggiosissimo. Sono veramente coraggiosissimo. Anima di Manus. Ragazzi, siamo troppo forti comunque. Eh, dieci umanità. Eh. E la madonna. Meno malo. Meno malo. Non so come, quando ha fatto l'attacco, quello delle super anime della madonna, non mi ha preso. Non mi ha preso. Sai come si dice? Culo. Bravo. No, non è culo ragazzi. Questa è abilità. Tutta abilità. Quando, quando... Bene. Allora, visto che io devo ancora uccidere, adesso venga a fare un po' di abilità con me. Ok. Ok. Va bene, va bene. Siamo entrati nella boss fight per la seconda volta. La cazzina, togliamo la cazzina. La cazzina, togliamo. Io non posso fare niente. Ok. Io arrivo, eh. Dammi un attimo che metto le cazzafà. Se le trovo, le umanità, dove cazzarola sono? Sì, vieni qua. Eh, sono pirla però. Arrivo, 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 arrivo. Non gli faccio un cazzo. E tu, 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 veri strong. Il signora. Arrivo anch'io da Manus. Bella madonna. Ciao Sif. Aia, 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 aia. Aia, Manus, aia, però. Eh, ma questo mi shotta. Cagati Sif, non cagare a me. Ma perché Sif è così piccolo? eh perchè è cucciolo e non è una stronzata è cucciolo veramente ma sei serio? si eh la madonna quanto mi ha tolto ma mi ha tolto un frego non so io non ti faccio un cazzo e tu sei il Nugent Plus arca puttana 2 e basta quindi è la terza volta no no mi ha preso tantissimo anche a me è tantissimo aiuto zio porco quanto è forte eh già level 2 e SIF fa niente ma poi non puoi togliergli la corda immagino no SIF più che altro funziona come distrazione per Manus e ma non funziona tanto bene no funziona funziona è che siamo in 3 qui sto continuando a stare no a parte quello ma sto continuando a stare addosso Yamanos ho cercando di fargli più danno possibile più velocemente possibile no 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 ok sto cercando di allontanarmi il più possibile io ora allontanati ah mi ha sciottato della miseria te lo te lo batto io non mi fa nemmeno più attaccare su un cagone secco Manus da figa della miseria eh mi sa che ciao svapo ciao svapo allora ragazzi eh jiba avrete visto che ci abbiamo provato due volte a battere la seconda sono sono morto ancora Manus sto parlando di Manus e quindi poi l'ha battuto da solo e quindi ciccia niente anime adesso siamo qua davanti alle catacombe e mi ha detto il buon Virgilio che dovremmo farci il primo pezzo da soli io non non so niente delle catacombe è tutta dritta io vado e vedo cose ah 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 ci sono i teschi di Doom perché hai i teschi di Doom? perché? ci sono i teschi di Doom quelli ma mi ha perriato male chiaramente i teschi di Doom ma come ti ha perriato invece ho 10 fiasche qua non va bene riavviva la fiamma subito mi ha perriato malissimo si si sono i teschi di Doom quelli tu hai mai giocato a Doom? quindi un pochino no quindi non sai quali sono i teschi di Doom no beh lei scrivi i teschi di Doom venga avanti e mi trova no come fa perriarmi l'attacco pesante si può perriare l'attacco pesante ecco ho già capito quanto smodonnerò io a questa parte nooo ok se mi lievo campo meno diciamo ok ok di qua non si può andare qua c'è una scala io scenderei buttati no 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 buttati no buttati buttati che è morbido ma io sarò umano non lo so tanto deve arrivare a un falò accendi il falò e poi dopo mi 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 cosi e comunque non credo che tu sia umano no non credo nemmeno io comunque si rialzano i bastardi si perché c'è un c'è l'incantatore devi uccidere l'incantatore sennò continuano ad alzarsi per tutta la vita a meno che non hai un'arma divina no a meno che non hai un'arma divina divina ah ok divino no a meno che non hai preso il sommelier come come o forse ho trovato l'incantatore credo di sì e in una stanza col falò no no credo di averlo di averlo trovato credo proprio di averlo trovato lei venga qua si faccia no non si faccia backstappare comunque ho trovato il falò credo che diventa umano ti evoco e possiamo continuare ti sei cambiato? si ho notato nel mentre spingo una leva tira la leva che stranamente non è bloccata molto stranamente e ora che ho tirato la leva cosa è successo? ma vedi hai bisogno di cavaliere si si l'ho acceso l'ho acceso bravo ci sono anche assettato allora i gli scheriti li responeranno non responeranno una volta uccisi gli incantatori no l'ho già l'ho già ucciso l'incantatore no siccome ce ne saranno altri ti dico ah ok cosa che ha fatto questo schermo? è pazzo eh fanno cose ok allora forse ho trovato l'incantatore è qua dentro l'incantatore è arrivato il massimo l'incantatore eh dai sopra allora in teoria dovremmo essere super OP in questa in questa fase in quest'area perché bisognava farlo prima? si noi abbiamo praticamente fatto quasi tutto il gioco prima di stare ah ok tu controlla controlla tutto in giro se ci sono lutti da prendere ok si qua ce n'è uno lucerne lo scherito è morto ma continua a camminare però quelli sono dettagli eh vabbè ma quella è la mia edizione di Dark Souls era tutto strozzo tipo questo l'ho ucciso un anno fa ma è ancora vivo allora io vado direttamente oddio ecco saremo morti sicuro perchè? eh perchè arriverà quello che ti fa i front step come al solito e poi siamo in una zona diciamo un po' di murder allora venga con me eh beh eh beh si eh ah beh si eh io vado a tirare la leva lei uccida gli scheletrozi ah ok io non ho ucciso nessuno sono dietro di te bene beh lei tira la leva io faccio quello che deve fare lei eh ma come faccio a tirare la leva non ci posso arrivare eh ti resta leva ma c'è un falò qua dietro si ma lascialo stare e cosa serve per tirare quella leva? serve per per girare il ponte quello che avevamo davanti a noi prima tutto pieno di spine ok che l'ho visto solo di sfuggita tra le altre cose corri forte, corri fortissimo io vado dall'incantatore ok tra l'altro ho visto uno zio che si è suicidato ok piano eh piano ho il cuore che mi batta tantissimo perché? sono agitato è una zona tutta buia è un po' buia e la miseria ma devo venire anche io lì? si eh ma ho perso tantissima vita titanita scintillante grazie eh ma quante robe che spuntoneggiano ci sono eh un po' non sembra male cioè è bruttina sta zona però è carina no mi fa un cagare lì in questa zona no è brutta eh però è carina quella in tendenza carina nel senso fatta bene no sono caduto vai ah bisognava cadere si ma siamo dove eravamo prima? aspetta qua è vero dove siamo dove eravamo prima hai fatto il giro dei pepper andiamo eeeh vaffanculo uccidi che adesso muoiono queste ma perché abbiamo fatto fare tutti gli incantatori che c'erano? si quello che c'era dall'altra parte del ponte quello che ho killato io prima ah era quello che li teneva in vita? si quindi adesso ho arrivato lì dove eravamo non dovrebbe romperci le palle nessuno no 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 ha girato la leva il figlio di putt lo sapevo lo sapevo io non sono morto allora rimani lì dove sai che ti metto il simbolo occhio ho visto che il figlio di puttana ha girato lui la leva dovresti vabbè in teoria no perché è la mia girata dimmi dove l'altro falò tu rimani lì dall'altra parte del ponte beh mi ha fatto un backstep non neanche l'ho visto mi ha backstappato ma ti ha ucciso? si con un backstep non è non è non è non è non è